È chiaro che noi non ne facciamo solo un problema squisitamente economico, noi parliamo di dignità del lavoro. Il lavoratore pubblico scafandrato che giustamente si è visto riconoscere questa premialità, non vedo perché debba essere negata al dipendente privato che ha lavorato con questo dipendente gomito a gomito per far fronte alla pandemia. Mario Frittelli, responsabile dell'Unione Sindacale di Base della Sanità, parla a nome di tutti gli operatori sociosanitari che questa mattina si sono dati appuntamento a Pescara davanti all'assessorato regionale alla sanità per incontrare l'assessore Veri e chiedere che vengano applicati gli stessi diritti dei lavoratori del settore pubblico anche ai dipendenti delle cooperative private impegnate ugualmente in questa lotta all'emergenza sanitaria. Abbiamo ottenuto per quanto concerne l'ASL di Chieti un avviso pubblico di un anno a tempo determinato senza preselezione attraverso un colloquio. Presumiamo che tutti quanti i partecipanti entreranno in graduatoria. L'altra cosa che siamo riusciti a ottenere è un concorso pubblico regionale capofila l'ASL di Teramo che stanno contrattando la sede della Fiera di Roma. Questo è dovuto al fatto che sul concorso pubblico ci sono circa 8.000 domande per cui vi è la necessità di trovare delle strutture idonee per lo svolgimento del concorso. Rispetto alla situazione di oggi che vede questo personale esternalizzato, vittime di contratti capestro presso cooperative e ditte esterne, questo primo passaggio verso una reinternalizzazione all'interno della struttura pubblica noi non possiamo che ritenere un grosso passo in avanti. Quello che avete lamentato anche in precedenza è la disparità di trattamento tra chi lavora per le cooperative private e chi invece come voi lavora allo stesso modo però nel pubblico. Sì, abbiamo sollevato il problema concernente alla premialità Covid che ha visto delle premialità nel pubblico impiego che vanno dai 500 euro fino a un massimo di 2.000 euro. Il problema da noi sollevato è che questo personale che è stato scafandrato, si dice, nell'ambito di tutti i reparti di emergenza e urgenza e quindi pronto soccorso e reanimazione di fatto non si sono visti riconosciuti queste premialità.